Ciao. Ciao. Sì, allora, la cosa che dovevo fare stasera non la faccio più. Ho detto che dovevo passare la serata con il più grande giornalista equestre d'Inghilterra. Oh! Ma è magnifico! Fantastico! La traccia di una miseriaccia è il compleanno di mia sorella. Accidenti, dobbiamo fare una cena. D'accordo, non fa niente. No, riuscirò a svincolarmi. No, voglio dire se va bene per te e ti accompagno. Tu, tu verresti con me alla festa di compleanno di mia sorella. Se la cosa ti va? Sì, certo che la cosa mi va. È il mio amico Max che cucina. Lui è generalmente noto come il peggior cuoco del mondo, ma... Puoi sempre nascondere il cibo nella borsetta, penso. Va bene. Va bene. No. No.